La schiera è la 4-3-1-2, sono i tre in porta, Frey, Andreoli, Acerbi e Dramay in difesa, Vacek, Bredli e San Marco a metà campo, Terro dietro le due spute, Pellissier, Moscardelli e Parma di Donadoni con il 3-5-2, Pavarini tra i pali, Paletta, Lucarelli e Zaccarli, 3 della nena di Quinsin, Gavagliani, Morrone, Mariga, Gallotta e Gordi a centro campo, Floccari e Giovinco in attacco, Armi tra Nasca, Di Bari, assistenti Giacchero e Galloni, a Verona fa freddo, siamo 2-3 gradi sotto lo zero, questa mattina anche una leggera nevicata, il terreno di gruppo è abbastanza allentato ma si giocherà regolarmente, studio.